Ciao ragazzi, sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Ocea Nomad. Allora ragazzi, mi sono portato avanti un pochettino, sono andato a raccattare un po' di risorse. Sette,ette,ette,ette, che però, no no no, no no no, il problema è che non me la fa prendere, no, agganciamoci su un po' più a po', allora fatemi vedere qua se riesco ad agganciare, no, qua c'è la botte, la botte la voglio pigliare, però questa, possiamo prendere anche questa. Non così, oh, per porca seriaccia, ok, questo c'è, dobbiamo prenderci la nostra botte, se no qua, perfetto, perfetto, prendiamoci anche questi perché ci sei, mannaccia la misera, non ci sono arrivato, ok, pigliamoci anche questo sniappolatorio vivente qui, perfetto. Allora ragazzi, noi siamo arrivati al punto che dobbiamo, 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 craftarci il banco da lavoro, altrimenti non possiamo andare sull'altra isola. Quindi, io ho raccattato un po' di risorse e possiamo craftare il banco da lavoro, che poi andremo ragazzi a spostare. Esattamente, no, così, no, come si può girare, perché non me lo fai, perché non me lo fai mettere? Cioè, me lo fa mettere, così. Allora, ragazzi, intanto facciamo così e fammi andare a prendere un attimo. Non ce l'abbiamo fatta. Niente. Abbiamo perso un po' di risorse. Ma va fanciapetto. Andiamo a prenderci un attimo. Ci siamo questo. Così, intanto, ragazzi, prendiamo un po' di risorse, perché a noi ci servono. Perfetto. Andiamo a vedere di prendere anche queste. Perfetto. Ok, andiamo a vedere un attimino. Qui, ragazzi. Uh, wow. Possiamo. Ok, per fare la barca. Possiamo mettere, allora, ci servono dieci corde che non abbiamo, per fare le corde. Come possiamo fare a fare le corde? Vediamo un attimo se abbiamo qua qualcosa. Non abbiamo niente. Fatemi vedere, perché voglio vedere un attimino se abbiamo delle cordazze. Se lo faccio prendere qualcosa lì, ma manco prendo il pistolo. Allora, il nostro banchetto noi adesso ce l'abbiamo. Ragazzi, possiamo guardare che su questo banchetto possiamo farci la nostra barca. Vedete? Dobbiamo fare le tavole, ma le tavole noi abbiamo già qualcosa, perché se noi stiamo a vedere, abbiamo bisogno di venti di queste tavole, no? e possiamo craftare lo nostro scafo. Poi abbiamo bisogno di altro, praticamente. Abbiamo bisogno di questo, che ci servono altri 15, abbiamo bisogno di questo e questo. Praticamente, ragazzi, abbiamo bisogno di un fracco di roba per riuscire a fare qualcosina. Allora, io direi, intanto, allora, nel nostro inventario noi dovremmo avere un paio di tavole. In queste tavole un paio ce le abbiamo, ma ne abbiamo solamente due. Solo, solo due. Ne abbiamo altre due di queste, che sono quattro. E quattro di queste, ce ne servono, ragazzi, ce ne servono 20 di queste tavole. Ci servono 20 tavole di queste e 10 corde. Allora, per fare le corde, non lo so cosa ci va. Probabilmente, per fare le corde, ci va... Dove è finito? No, non lo... Dove, 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 dove... Questo. Tessitura macchina. Quanto ci serve? Allora, abbiamo bisogno di questi qua, che possiamo andare a vedere perché magari possiamo farci un po' di più di quelli. Ne abbiamo due, però ci servono. Allora, non c'è il carbonazzo, oh sì. Fatemi vedere. Possiamo fare... Ah, non ce li abbiamo... Non possiamo craftare ancora. Niente, non possiamo ancora craftarci. Porca, non mi piaccia. Allora, abbiamo bisogno, ragazzi, di altre codice. Però il problema è che dobbiamo, per forza, andare a... Allora, le tavole le possiamo fare. E per fare le tavole, ragazzi, basta andare qua, fare così. E trasformare due di queste in tavole. Avete visto? Ok. E abbiamo finito il nostro legno. Vediamo se arriva giù porcheria, ma mi sembra proprio di no. Altre due tavole noi le abbiamo. Siamo arrivati a sei. A sei di queste. Ecco, il problema, ragazzi, è che adesso ci serviranno le corde. Le corde noi non ce le abbiamo. Allora, per craftare... Vediamo se è possibile craftarle da qua. Ma ne dubito che possiamo craftare le corde perché... E infatti, ragazzi, stazione di lavoro. La macchina utensile consente di lavorare con risorse complesse. Offre la possibilità di produrre componenti elettronici. Allora, il telaio, è possibile elaborare i frammenti estratti in tessuto in una corda. Eh, porca miseria, ci servirebbe. Però non abbiamo ancora sbloccato questi smerdolini qua. Perché se noi andiamo a vedere... Vedete... Il chiesto... Bloccato... Migliora la struttura... Ah, ok. Quindi, per migliorare la struttura, ragazzi, dobbiamo... Dobbiamo arrivare al livello 2. Per arrivare al livello 2... Allora, per fare questa cosa ci va? Io direi che possiamo anche farcelo. Però il problema è che per fare i lingotti... Per fare i lingotti possiamo farlo. No... No... Ok. Ok. Allora, io volevo fare questo. Per fare questo ci serve quello. È l'unica a far così. Ok. Ci serve questa, che è estratto in una pietra... Utilizzando per fabbricare... Allora... Allora... Quale falò? Ragazzi, dobbiamo provare a prendere... Fare il... Produrre il falò che non ho capito come fare... Ah, eccolo qua. Allora, per fare il falò... Vabbè, possiamo farlo, ragazzi. Perfetto. Abbiamo fatto il nostro falò. Ehm... Io direi, ragazzi, di mettercelo... Ehm... Di mettercelo qua. Poi... Piano piano cambieremo tutto. Ehm... Non è... Ehm... Allora... Per fare questo... Allora... Dobbiamo provare a fare una cosa... Ma no, ce ne ho! Ma ce ne ho qua! Mannaggia la miseria, c'è ragazzi! Devo... Allora... Cos'è che devo fare adesso? Non mi ricordo più... Ma... Ma... Allora... Per migliorare... Miglioriamo... Siamo arrivati a livello 2. Perfetto. E abbiamo sbloccato... I nostri pistolini... Che... Dobbiamo andare a vedere... Ecco, ci serve praticamente... Ehm... Possibile... Estrarre da un... Registro elaborato... Un mercoledì... Ehm... Allora... Ragazzi... Vado a cercare... Un po' di risorse... Dopodiché... Ci vediamo dopo! Ok... Allora... Ehm... Abbiamo... Da fare... Degli altri... Ehm... Ehm... Allora... Dobbiamo andare a vedere... Dobbiamo andare a vedere... Perfetto... Allora... Abbiamo craftato... Siamo riusciti a raccogliere tutte... Le risorse... Ragazzi... Ehm... Abbiamo... Ehm... Ho craftato adesso questo... Ok... E ci servivano gli assi... Che... Ehm... Andavano fatti... Sul banco di lavoro... E... I chiodi... Questi qua... Con la testa rotonda... Che andavano fatte nella fornace... Ehm... Adesso... Ehm... Ragazzi... Io vorrei mettere... Questa cosa... Ehm... La mettiamo qua... Poi vi vediamo un attimino... Ehm... Com'è tutto l'ambaradà... Perché poi pian piano... Mi voglio allargare un po' eh... Solo che... Purtroppo... Ehm... Ci servono... Allora... Per fare le corde... Ci servono di tessuti... Tessuti qualcosa abbiamo eh... Ne abbiamo un bel po' di tessuto eh... Ehm... Qui... No... Quindi... Dobbiamo fare così... E incominciamo a mettere... Questi tessuti... E fare un po' di corde... Quindi... Ehm... Facciamo così... E incominciamo a craftare... Una... Non so adesso ragazzi... Quante corde... Ehm... Ci vanno a servire eh... Ehm... Dobbiamo... Dobbiamo... Dobbiamo andare a vedere un attimino... Vediamo un attimino... Ehm... Ci servono... Ci servono... Ci servono dieci corde... Allora... Prima di tutto... Dobbiamo andare a prendere quella... Robala... Mercoledì... O una cacca puzzolente... Niente... Non ce l'abbiamo fatta... Mercoledì... Ehm... Quindi... Corde... Vediamo un attimino... Ne abbiamo... Dove sono le corde? Ne abbiamo quattro... Ne dobbiamo fare ancora... Ancora sei ragazzi... Quindi... Facciamo così... E... E' vero... Ci finiamo tutti i soldi ragazzi... Però ci servono... Per forza... Per... Fare... Ok... Allora... Andiamo a vedere... Un attimino... Nel nostro inventario... Nuove... Ce ne serve ancora una... Ok... Andiamo... A fare un'altra corda... Ragazzi... E dovremmo... Essere... A posto... Con le corde... Andiamo a vedere qua... Ok... Adesso ragazzi... Ci servono... 20 assi di questi... E' un bel casino... Perché... Ne abbiamo solo due... E altri assi ragazzi... Non ne abbiamo... Abbiamo solo questi... Ne abbiamo solo due... E' un bel casino... Ehm... Perché... Per fare un'altra bella cosuccia... Ehm... Qua... Dovrei... Andare a... Ehm... Raccogliere qualcosa... Allora... Facciamo intanto questo... Ok... Perfetto... Abbiamo anche finito i soldini... Ragazzi... Quindi... Niente... Devo... Per forza... Fare una bella cosuccia... Adesso... Prima di tutto... A parte che... Prima di tutto... Dobbiamo... Bere... Perché se no... Ragazzi... Moriamo male... Ok... Ci siamo... Ehm... Ehm... Volevo vedere una cosa... Ma se io mettessi qua... Il... Il... Ma perché non mi fa cuocere il cibo... Io non riesco a capire... Perché non ce l'ho qua... Semplice... Non ce l'ho qua... Semplice... Non ce l'ho qua... Perfetto... 9 minuti... Basta... Meno... Ok... Ok... Va bene... Ehm... Ehm... Ci vanno 9 minuti... Intanto... Ehm... Possiamo... Mangiare uno di questi... Ehm... Uso... E... Uso... E... Va bene... Li troviamo, eh... Comunque... Ovunque... Questi... Ehm... Allora... Io direi di fare un'altra bella cosuccia adesso... Ehm... Vado... Di nuovo... A farmi tutto il giro... Un'altra volta... E... Andrò a cercarmi... Un attimino... Ho detto... L'ambaradà... Ci vediamo... Tra un po' Aperto... Aperto... Comanda... Inhiarmo... in... Inversi... Peche... Inversi... Inversi... You see... Inversi... 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 inversi...